Siamo partiti da un viaggio iniziato due anni fa e questa è la terza campagna e siamo voluti partire ringraziando chi c'è sempre stato e quindi mettendo al centro i tifosi che da casa o che allo stadio ci hanno seguito i 10.000 fedelissimi che ci sono sempre stati e quindi abbiamo voluto fare una campagna di comunicazione mettendo al centro quello che è lo stadio, la curva, le persone e i tifosi un nuovo viaggio che inizia a lunedì con questa campagna abbonamenti ma un viaggio da vivere ancora insieme Il messaggio è molto semplice e anche richiama dove eravamo rimasti il tema partita, questo è lo slogan che accompagna la campagna Siamo partiti da questo, siamo partiti dalla curva di Firenze dalle emozioni che abbiamo avuto lo scorso anno ma in realtà abbiamo voluto partire da due anni fa un viaggio fatto assieme ai tifosi e abbiamo voluto per questa terza campagna abbonamenti di questo nuovo Parma ringraziare e mettere al centro i tifosi quindi un nuovo viaggio ma da vivere ancora assieme i tifosi ci sono sempre stati 10.000 fedelissimi allo stadio chi da casa e quest'anno sappiamo che potrà essere una nuova emozione un nuovo viaggio che ci regalerà emozioni nuove ci sono stati controlla la campagna la中